Ciao ragazzi, come state? Benvenuti in questo nuovo video, oggi siamo qua con Paolino, Paolino qui a Montalpete, sempre a Montalpete, vi avevo già fatto un video, andate a vederlo, ve lo lascio qua sopra e cosa facciamo oggi Paolo? Facciamo una nirvana a camione, come potete vedere, protezioni serie e quindi diamo del gas, vero? Sì, speriamo solo di non usarle, anche lui, guardate com'è bello spesso, guardate qua che spalle rotonde, che spalle, sei proprio uno spessone, e quindi nirvana, nirvana, la pista coi salti, bellissima e vi ricordo che vi lascio il link di Bioenergy, i migliori prodotti che ti ricaricano in fretta che spammò! Vi lascio qua sotto in descrizione, andate a darci un'occhiata, seguitemi su Instagram e anche su TikTok se volete, e qua su YouTube e niente, andiamo a girare? No, andiamo, dobbiamo aspettare di arrivare in cima è un po' lenta questa seggia via, però dovremmo arrivare in cima, no? Pian piano Sì, se non si rompe, sì Che sceo E beh E niente, oi nirvana, eccola qua, questa qua è la nirvana No, quella è la gym Qual è la nirvana? Questa Questa qua Fallito Meno male che ci sei te Eh, lo so Meno male, meno male Siamo sulla nirvana, e qua davanti abbiamo Paolino, voilà, voilà Che gas Paolino, eh Come potete vedere, è pieno di salt su questa pista Vai molto Paolo Guarda di stare alto Te l'ho detto mille volte Scrappala Che rischio In culo Qui alto Come? Che fungo Mamma mia che... Come on out Stato della strada Bravo Paolino Tu sì che vai forte Meno Grande Paolino Grande Paolino Pompano anche questo Taglione Ragazzi questo bike park è davvero figo, io ve lo consiglio E' davvero figo, i salti sono scusbendi E' davvero figo, i salti sono scusbendi E' davvero figo, i salti sono scusbendi Una dopo l'altra ti gira la testa Una dopo l'altra ti gira la testa Ehi bro Saluta Purtroppo avuto un incidentino vero? Cosa ti è successo, dici Ho voluto seguire una tua linea E sono volato Come si chiama? Transfer Però almeno ci hai provato, è grande Ciao ragazzi Saluta Bella raga Di chi sei? Sono Alberto Bocca Come ti chiami su Instagram? Alberto Bocca Ok Paolino Comunque abbiamo dato un po' di gas, vero Paolino? Certo Ma Tavia purtroppo dormiva in macchina Perché si è sfracellato il polsino Quindi sto tranquillo Quindi prego Dai, se vi è piaciuto il video Lasciate un like Commentate Per questo killer Iscrivetevi al canale E seguitemi Seguite anche lui Se non vi è piaciuto il video Lasciate dislike E niente Bella a tutti ragazzi Ci vediamo in un prossimo killer video E No Niente E Grazie a tutti.